Se siamo tutti d'accordo proporrei al nostro ospite al quale do il benvenuto e che ringrazio per aver accolto con entusiasmo questo invito ad arricchire con la sua relazione, con la sua presenza al nostro laboratorio, se siamo d'accordo io farei così, lascerei immediatamente la parola al professor Beri per circa un'oretta che ci illustrerà attraverso anche delle chiamiamole diapositive, questo tema molto affascinante di storia marittima e poi farei seguire alla sua relazione, alla sua chiacchierata con noi dieci minuti, un quarto d'ora di domande dopo i quali naturalmente ragazzi noi continuiamo con un aspetto che non c'entra niente con la storia navale che però ci serve per organizzare anche le informazioni di carattere bibliografico che ci darà oggi il nostro ospite che sarà Zotero che abbiamo anticipato l'altra volta ma oggi lo vediamo più nel dettaglio, quindi non scappate dopo questo quarto d'ora di dibattito finale. Non rubo più tempo al nostro ospite, prego professor Beri, siamo qua ad ascoltarla Grazie per la presentazione, procedo con la condivisione dello schermo Sì, lo vediamo Non so se potete apprezzare il simbolino ludica che ho rubato dal sito del vostro laboratorio Tanto ringrazio Gianpaolo per l'invito e per l'usinghiera presentazione. Oggi vi parlerò di bastimenti, ma per parlarvi di bastimenti, uso il termine bastimenti non a caso, poi vi vedrete nel corso della mia esposizione anche perché, dicevo prima di parlarvi di bastimenti vi devo portare all'interno del mondo marittimo, a dare un'occhiata all'interno del mondo marittimo dell'età moderna. Perché? Perché le tipologie nautiche dell'età moderna, dell'antico regime sono una realtà non solo tecnologicamente, ma anche concettualmente molto distante da quella attuale. Perché? Perché noi oggi abbiamo un'idea delle tipologie nautiche abbastanza chiara, schematica e standardizzata, principalmente connessa alla funzione. Cioè abbiamo navi da crociera, navi cargo, le porta container, navi porta liquidi, io nella slide ho messo petroliera, ma in realtà ci sono anche le gasiere, quindi tutta una serie di navi concepite per trasportare liquidi o gas, poi il navi traghetto, yacht e altri similari. Nella realtà di antico regime la materia della tipologia nautica invece è molto più complessa. Perché? Perché la terminologia che si trova nelle fonti, si trova nei documenti, solo a volte è connessa alla funzione. Cioè solo a volte i documenti riportano nave da guerra, abbastimento da guerra, abbastimento armato o nave mercantile, abbastimento mercantile. Solitamente e diversamente da quanto accade oggi, la terminologia usata nelle fonti indica una particolare tipologia di abbastimento, non differenziata in base alla funzione solitamente. Cioè un abbastimento che può essere sia da guerra che mercantile, con un'estrema varietà di casistiche. L'estrema varietà la ritroviamo soprattutto nella documentazione di ambito mercantile ed è un'estrema varietà che è connessa in primo luogo e soprattutto principalmente alla diversa realtà del mondo marittimo d'antico regime rispetto al mondo marittimo attuale. Mi spiego. Oggi il trasporto marittimo, quello per scopi commerciali, è attuato quasi esclusivamente da quelle che sono le grandi compagnie della logistica, un esempio la MERS, ed è attuato principalmente su grandi navi. Il trasporto passeggeri non differisce nella sostanza da questa realtà, è anch'esso fatto da grandi compagnia su grandi navi da crociera principalmente. Si declina attraverso principalmente le navi da crociera o le compagnie di traghetti. In questa realtà qualche piccola del trasporto passeggeri qualche piccola compagnia esiste, ma è una realtà marginale rispetto a un mondo dominato dalle grandi compagnie. In antico regime la realtà era diversa. Perché? Perché le grandi compagnie non erano assenti. Pensiamo alle compagnie delle indie orientali, quella inglese e quella ma ci sono anche compagnie genovesi, la Grillo Lomellini nel 600. Ma le grandi compagnie, soprattutto nella realtà mediterranea, non erano la dimensione dominante del trasporto marittimo. La dimensione dominante del trasporto marittimo in antico regime, particolar modo nel Mediterraneo, era la dimensione medio-piccola. Quella della piccola compagnia o quello del singolo armatore, a volte del singolo capitano di mare, che aveva la proprietà di parte o tutta, aveva la proprietà di tutta la sua abbarcazione o di parte della sua abbarcazione perché la divideva in quote azionarie. È una realtà quindi quella di antico regime, del trasporto marittimo antico regime, che è caratterizzata dalla dimensione del micro, anche se è caratterizzata dalla dimensione del micro per la sua parcellizzazione. Ma è un mondo che sotto il profilo economico è decisamente macro, è decisamente grande. Perché? Perché il trasporto su terra, il trasporto su terraferma fino all'avvento della ferrovia, quindi fino all'Ottocento, è stato decisamente marginale rispetto a quello su acqua, sia per quanto riguarda il trasporto di merci, sia per quanto riguarda quello di persone. Perché è stato marginale? Perché era meno competitivo. Era meno competitivo per una questione sinergica di tempistiche, di quantità di merce trasportabile e di persone trasportabili e di sicurezza. Una sinergia, tempo, quantità, sicurezza che si traduceva in costi e quindi in competitività. Noi dobbiamo immaginare, per avere un'idea abbastanza, un'immagine, un immaginario abbastanza efficace del mondo marittimo antico regime, dobbiamo pensare a quello delle strade di oggi traslate sul mare. Traslate sul mare in primo luogo in una fascia di mare, per quanto riguarda il Mediterraneo, molto stretta, addossata alla costa. Una sorta di strada con i margini, con le banchine comprese, da una parte appoggiata dalla costa e dall'altra a poche miglia dalla costa. La realtà del trasporto marittimo d'antico regime, in sostanza, somma in sé la realtà del trasporto marittimo di oggi è la realtà del trasporto medio e piccolo che avviene su terra, su ruote, su ferrovia oggi. Se oggi noi abbiamo delle grandi navi cargo, portacontainer, petroliere, sul mare e abbiamo sulla terra una pluralità di mezzi di trasporto con minore capacità di trasporto rispetto alle grandi navi che si muovono continuamente lungo le strade e lungo le autostrade, cioè i treni e lungo le ferrovie, i treni, i camion, i furgoni, le auto, dobbiamo pensare che in antico regime la quasi totalità di questa realtà, di questa realtà che oggi è divisa fra terra e mare, era concentrata sul mare e nelle aree continentali concentrata sui fiumi e quando presenti sui laghi. Il trasporto su terra era utilizzato solo ed esclusivamente quando non c'era la possibilità di sfruttare una via d'acqua. Noi quindi dobbiamo immaginare il mare d'antico regime non come uno spazio quasi del tutto libero di imbarcazioni come è quello che possiamo ammirare oggi stando a guardare il panorama da una costa, ma dobbiamo immaginare il mare d'antico regime come una realtà che era brulicante di bastimenti specialmente vicino alla costa. Una realtà che è descritta in modo magistrale da Fernand Brodel nel primo volume di Civiltà e imperi del Mediterraneo e dell'entà di Filippo II. Brodel descrive questa realtà usando la metafora delle processioni, di lunghe file di bastimenti come esseri umani in processione o come larve processionarie in coda una dietro l'altra che si muovevano lungo le coste in due direzioni opposte. È la stessa dimensione di quella che oggi è una strada con le sue carreggiate in cui si muovono continuamente automezzi diversi l'uno dall'altro in due direzioni opposte. E l'immagine della strada la usa appositamente per portarvi fuori dall'idea che noi abbiamo oggi, l'idea standardizzata di nave da trasporto. Per noi oggi la nave da trasporto è essenzialmente la grande nave carica di container. La realtà marittima invece dell'antico regime a cui dobbiamo pensare è molto più simile a quella della strada di oggi che a quella del mare di oggi. Se pensate al traffico in una strada o anche in un'autostrada, ma è meglio pensare ad una strada perché quello dell'autostrada è decisamente più denso e quindi vi dà un'immagine sbagliata. Una strada mediamente frequentata è quella l'immagine giusta. Vi compare l'immagine di tanti automezzi diversi, non solo per tipologia ma anche per struttura all'interno della stessa tipologia. Camion diversi, furgoni diversi, auto diverse per marca e per forma. Tantissime quindi mezzi diversi, accumulati da categorie in cui sono, che le racchiudono, in cui sono racchiusi, in cui sono identificati, ma sono diversi come modello uno dall'altro e si muovono continuamente lungo un asse logistico. Se riuscite a focalizzare questa immagine avete un'idea di massima di quella che era la realtà maritima di Antico Regime. Cioè una realtà, un mare vicino alla costa, solcato quotidianamente, soprattutto nella buona stagione, in primavera e in estate, da tantissimi bastimenti e questi tantissimi bastimenti appartenevano e erano riconducibili a un'estrema varietà di tipologie nautiche diverse. E così nelle fonti voi trovate gondole, leudi, feluche, feluconi, fregate mediterranee, le chiamiamo noi così per distinguere dalle fregate non mediterranee, ma purtroppo nelle fonti la distinzione non viene fatta. Brigantini mediterranei, stessa questione delle fregate, poi brigantini, che non sono i brigantini mediterranei, galeotte, barche, pinchhi, sciabecchi, fregate, galeoni, vascelli e navi. È una varietà estrema che già rende il quadro di riferimento e il rapporto con le fonti estremamente complesso. Ma non solo il quadro è complesso, c'è anche un ulteriore problema, c'è anche un ulteriore problema che complica ancora di più un quadro che è già complesso. Dobbiamo pensare all'antico regime come una civiltà, la civiltà del legno sotto il profilo nautico, è una civiltà dove la standardizzazione latita, dove la standardizzazione specialmente nella cantieristica mercantile è labile, è debole. È una realtà che latita. Perché? Perché i bastimenti erano dei prodotti artigianali e ogni artigiano che nella cantieristica si chiama maestro Dasha ci metteva del suo nel bastimento che costruiva. Il risultato è quello di un'estrema varietà di bastimenti diversi esistenti all'interno di un'estrema varietà di tipologie, con bastimenti che solo per alcuni tratti corrispondevano ad una tipologia, mentre avevano anche caratteristiche proprie di un'altra tipologia, di un'altra tipologia affine. Non solo questo, quindi non solo la mancanza di standardizzazione nella costruzione, il problema è anche che nella civiltà del legno un bastimento poteva facilmente essere modificato durante la sua vita operativa, cioè dopo essere stato costruito. Molto spesso cambiava aspetto, per quanto riguarda la velatura cambiava anche aspetto durante la navigazione, venivano cambiate le vele e l'aspetto come vedrete cambiava in maniera significativo. Veniva modificato in cantiere e i cantieri erano delle semplici spiagge e poteva essere modificato per un certo periodo per rispondere a particolari esigenze e poi riportato alla struttura iniziale con un'estrema varietà di situazioni. questa estrema varietà di situazioni ve la sto raccontando perché emerge dalle fonti. Ad esempio da una delle fonti principali per lo studio del mondo marittimo, ma è solo un esempio, le fonti consolari e qua in questa slide trasformata in pdf per l'occasione ve ne mostro una. Cosa emerge dalle fonti? Emerge che lo stesso bastimento viene definito attraverso più tipologie differenti, solitamente due, ma capita anche a volte tre, nello stesso documento, dallo stesso osservatore, oppure in documenti diversi, da osservatori diversi. E non si tratta di errori. soprattutto quando l'osservatore è lo stesso. Perché stiamo parlando, nel caso consolare, di soggetti che avevano un notevole know-how in materia marittima. Guardiamo ad esempio, spero che riusciate a cogliere il documento e la parte sostenuta rossa, per questa lettera del Consulio di Livorno del 1761. Non siamo nel Cinquecento, siamo molto vicino all'Ottocento della rivoluzione industriale della standardizzazione, ma in questo documento un felugone, una feluca, C e G linguisticamente erano intercambiabili, felugone, ossia feluca, sono tecnologie simili, sono le dimensioni. Il felugone, come si intuisce dal termine, era più lungo dalla feluca. Quindi qual problema si pone, ma in maniera marginale? in maniera marginale, ma in altre circostanze si pone in maniera più problematica. Qua vi ho portato dall'altra parte, se Feluco o Felucone erano due tipologie molto simili fra loro, in un documento consolare che purtroppo ai tempi non avevo fotografato, e in questo periodo con gli archivi chiusi non ho potuto fotografare, ma vi riporto solo la citazione, lo stesso console di Livorno scriveva Pinco, ossia leudo. Ora, se vedete quelle immagini qua riportate nella slide, avete alla sinistra un'immagine tratta da un testo a stampa di tipologie nautiche dell'inizio ottocento, e rappresenta un classico, quello che lui dice essere il Pinco genovese. A destra un ex voto, conservato in un santuario di Genova, con raffigurato il Pinco del patrone di bastimento che ha commissionato l'ex voto. In realtà è diverso dal Pinco rappresentato dal manuale, dall'opera stampa del 1814, e questo Pinco è del 1796 sia per velatura sia per configurazione della poppa. Il Pinco del 1814 ha la poppa piatta, questo Pinco ha la cosiddetta poppa a sciabecco, e qua si pone già il problema perché il sciabecco è un'altra tipologia di bastimento ancora. Il Pinco in bianco e nero ha le vele triangolari latine su tutti gli alberi, il Pinco dell'ex voto ha le vele quadre e armato a nave, cioè solo la vela latina, la sola nell'albero ultimo, quello di Mezzana, sulle altri due alberi ha la velatura quadra. Ma non solo questi due Pinchi sono diversi fra loro, e soprattutto per quanto riguarda la poppa in modo non trascurabile, perché la caratteristica del Pinco, che ci dicono i testi a stampa, la trattatistica del 1700 e dell'800, doveva essere proprio quello di avere la poppa a specchio, lineare, non quella a sciabecco. Eppure questo patrone di bastimento chiamava il suo bastimento Pinco. Ma torniamo alla frase del console di Livorno, Pinco, ossia leudo, come ce lo raffigurano, com'è il leudo nelle fonti iconografiche? È così, è completamente diverso da un Pinco, non c'è nulla di un Pinco, negli alberi, nella forma dello scafo, questo addirittura ha anche i remi in acqua, mentre il Pinco raffigurato precedentemente non ce l'ha. mentre molto spesso invece i Pinchi avevano i remi, ce lo dicono gli inventari, oppure anche le fonti che descrivono la navigazione. Ve l'ho detto, questo è un caso limite, Pinco, ossia leudo. È come dire camion dell'Iveco, ossia station wagon della Mercedes. Sono due cose completamente diverse. È un caso limite, però il problema, non così intensamente come in questo caso limite, si pone per tantissime, per tutte le tipologie nautiche dell'età moderna, in forma anche diversa. Qua vi ho fatto vedere fonti che chiamano lo stesso bastimento in due modi diversi, ma abbiamo anche fonti che chiamano con lo stesso nome bastimenti che hanno caratteristiche diverse fra loro. Prendiamo l'esempio della tartana. Se voi esplorate il mondo online, soprattutto quello della modellistica, che è uno dei mondi di riferimento per le tipologie nautiche, sia a livello di pubblicazioni, sia a livello di discussioni sui blog e sui forum, di come erano i bastimenti e quindi di come replicarli nei modelli degli appassionati. Se voi frequentate questo mondo, la tartana, per eccellenza, è quella rappresentata qui a destra in questa ricostruzione grafica, che ritrovate pari pari nelle sue caratteristiche essenziali in questo testo a stampa francese del 1679. Ma il problema è che dalle fonti, sia stampa che fonti scritte, compaiono altre tartane. Ve ne faccio vedere una. Ossia, vi faccio vedere prima come si pone il problema in un documento. Se nella manualistica, diciamo, modellistica, ritrovate la tartana per eccellenza, scavando nelle fonti vi rendete conto che la tartana per eccellenza è solo una delle tipologie di tartane esistenti in età moderna. Questa lettera del consul di Portoferraio già fa intuire il problema. Dice che un bastimento, un pinco, ha portato a rimorchio con sé una tartana trovata per mare senza equipaggio. Capitava quando l'equipaggio veniva predato da un bastimento corsaro barbaresco. Il carico era di poco valore e quindi il bastimento barbaresco catturava solo l'equipaggio per fare schiavi e lasciava il bastimento alla deriva. Ma qua quello che ci interessa cos'è? È che la tartana viene definita a condotto seco una tartana ad un albero. A una tartana ad un albero. Cosa vuol dire? Vuol dire che esistevano anche tartane che non erano come quella che abbiamo visto precedentemente ad un albero. e già nello stesso testo a stampa del 1679 troviamo una tartana a due alberi. Quindi la tartana ad un albero non è la tartana. È una tipologia di tartana. Ed esempio, in una fonte notarile genovese per il 1695 troviamo una tartana a tre alberi di questo patrono giobattista rosso di finale, l'attuale finale Ligure. Tre tipologie diverse di tartana che si distinguevano per il particolare del numero di alberi e che quindi impediscono di avere la tartana per eccellenza come riferimento standardizzato o fisso. Ma il problema si complica ancora di più. Perché? Perché in tantissimi documenti attraverso quella formula del doppio nome le tartane vengono anche definite barche. La barca in età moderna non era un termine utilizzato come oggi per un'imbarcazione generica di piccole dimensioni. La barca era un veliero bastimento mediterraneo principalmente Ligure ma poi diffuso anche in ambito in tutto il contesto italiano francese e spagnolo tendenzialmente a due o tre alberi armata con vele latine cioè con vele triangolari per quanto riguarda il 600 e parte del 700 e poi a partire da un momento imprecisato del 700 anche sempre più con vele quadre. Il problema dove sta ma se ne sono resi conto anche dei colleghi napoletani che una barca come quella raffigurata qua a tre alberi era molto simile se non quasi identica alla tartana che abbiamo visto precedentemente a due alberi. Ecco perché molto spesso la tartana era anche chiamata barca perché le due tipologie in realtà non differivano per elementi significativi e soprattutto in un quadro in cui ogni prodotto era un'opera artigionale personale ecco che una tartana poteva avere delle caratteristiche e chissà quali erano non lo sapremo mai che la avvicinava ad una barca e una barca poteva avere delle caratteristiche che la facevano scambiare per una tartana ossia i due modelli erano così indefiniti nel loro punto di contatto che neanche i contemporanei erano in grado di chiamare quel bastimento o solo con un nome o solo con l'altro se poi passiamo dalla barca alla polacca che era ancora un'altra tipologia di bastimento ci rendiamo conto per come c'è la mostra sempre quel testo a stampa del francese del 1697 che la differenza sta essenzialmente nella velatura faccio un rapido cambio fra le due slide nella velatura sull'albero di maestra che è quello centrale e sull'albero di mezzana che è quello verso poppa l'albero verso prua si chiama trinchetto il problema qua dove sta il problema e ce lo dicono molto spesso le fonti consorare ma anche gli inventari di bordo delle imbarcazioni le vele cioè i bastimenti imbarcavano sia vele latine che vele quadre e le montavano a seconda dell'occorrenza perché a vele diverse corrispondeva una capacità di usare il vento in maniera diversa quindi la barca con le sue vele latine poteva assumere tranquillamente l'aspetto di una polacca durante la navigazione se la distinzione era sulla base della velatura e infatti troviamo polacche definite barche barche definite polacche tartane definite polacche e polacche definite tartane ma quando eravamo partiti nel discorso dal pinco giusto per confondervi ancora un po' l'idee avevamo visto che il pinco un pinco aveva le vele latine e l'altro pinco aveva le vele quadre e tra questa polacca con parte di vela con la vela latina al trinchetto le vele quadre alla maestra la mezzana è il pinco del nostro ex voto non c'è così tanta differenza tenendo poi presente che abbiamo in altri testi a stampa la raffigurazione di barche vedete qua barche genoise i testi a stampa sono principalmente francesi quelli che raffigurano le collezioni di disegni di imbarcazione abbiamo una barca che ha la velatura a nave questo tipo di velatura si chiama a nave lo stesso tipo di velatura del pinco è uno scafo che non è così diverso nella linea da quello del pinco sia quello che avevamo visto prima a vele latine sia questo con questa poppa particolarmente slanciata a forma di sciabecco ossia la differenza già per come ce lo mostra un tipo di letteratura standardizzata che è quella della manualistica della trattatistica ma anche in sinergia con l'ex voto il passaggio da polacca a barca a pinco ci mostra tre tipologie di bastimenti che possono essere facilmente confusi uno con l'altro e dal pinco e da questo pinco con questa poppa particolare ve la mostro ancora una volta slanciata indietro si fa il salto allo sciabecco lo sciabecco ha la stessa identica linea forse un po' più slanciata degli altri delle altre imbarcazioni che abbiamo degli altri bastimenti che abbiamo visto ha lo stesso tipo di velatura in questo caso è uno sciabecco con velatura latina ma poteva benissimo montare le vele quadre perché le aveva a bordo e doveva solo cambiare l'antenna con il pennone l'antenna è la struttura che regge la vela latina il pennone è la struttura che regge la vela quadra e la caratteristica che ci dice di solito la trattatistica o gli esperti di modellistica la trattatistica che differisce principalmente lo sciabecco dal pinco cos'è la forma della poppa slanciata a quello dello sciabecco a specchio cioè perpendicolare quasi perpendicolare verso l'acqua quella del pinco ma se noi guardiamo la poppa del pinco genovese del 1696 alla forma dello sciabecco alla forma della poppa dello sciabecco non di quello che la trattatistica ci presenta come pinco eppure il suo padrone lo chiamava questo bastimento pinco e non sciabecco il fatto che le due tipologie anche qua fossero molto vicine una all'altra ce lo dimostrano tantissime fonti soprattutto consolari che dicono pinco in cui c'è scritto pinco ossia sciabecco oppure consoli diversi che dicono oggi è arrivato qua a Livorno il pinco del patron boccardo il consul di Portoferraio tre giorni dopo dice è arrivato qua a Portoferraio lo sciabecco del patron boccardo il bastimento è lo stesso un console lo chiama pinco l'altro console lo chiama sciabecco il problema qual è il problema è che dobbiamo uscire dalla mentalità standardizzata dell'oggi dalla mentalità taylorista e fordista e dobbiamo entrare in un mondo in cui la tipologia nautica sebbene molto più variegata di oggi era molto meno standardizzata di oggi attraverso una varietà estrema di modelli di tipologie al cui interno esisteva una varietà estrema di situazioni di modelli tra virgolette ma non erano neanche modelli che erano il flutto di un sistema produttivo che non era standardizzato era essenzialmente artigianale è questa la mentalità in cui bisogna calarsi ed è questa la mentalità che bisogna utilizzare per creare degli strumenti di consultazione in materia facendo inculcando nel pubblico l'idea che la tipologia è solo un riferimento esemplificato che la tipologia che viene mostrata in un'immagine in una fonte iconografica è solo un riferimento generico alla tipologia generale all'interno cui esisteva una variante enorme probabilmente di situazioni di modelli tra virgolette ma non erano neanche modelli molto spesso erano pezzi unici diversi il problema e fin qua vi ho parlato principalmente di bastimenti piccoli medi e medio piccoli il problema si pone anche soprattutto per le fonti del 500 del 600 in parte anche per quelle del 700 per quanto riguarda i bastimenti di maggiore dimensioni compresi quelli da guerra che tendenzialmente sono più standardizzati di quelli mercantili scusate bevo un secondo vi dicevo noi oggi utilizziamo nave come un termine generico in realtà nave in età moderna indicava un specifico un specifica famiglia di grandi bastimenti in questo caso la differenza è abbastanza netta dal punto di vista dell'armo velico ossia la nave era il grande bastimento che aveva la velatura l'armo velico a nave ossia le vele quadre al trinchetto e alla maestra e la vela latina con vele quadre poi da un certo momento in poi questa particolare vela trapezzodale che si chiama vela aurica alla mezzana quindi voi qui avete due tipologie diverse di navi che tecnicamente sono un galeone a sinistra e un galeone olandese del 1587 e un vascello spagnolo del 1801 entrambi sono riconducibili per l'armo velico alla categoria nave infatti entrambi magari in una fonte genovese li trovate indicati definiti col nome generico di nave ma non troverete mai in un bastimento in un documento dell'età moderna o quasi mai un pinco una barca una tartana definita nave può essere definito bastimento che è il termine generico molto utilizzato può essere definita il altro termine generico utilizzato ma più che altro nel tardo medioevo nel 500 legno può anche essere definita un termine molto utilizzato come termine generico fino al 600 a tutto il 600 vascello o vasello anche nel campo dei grandi bastimenti però la situazione non è così semplice se noi ragioniamo ad esempio in termini di nave e galeone abbiamo già due tipologie che teoricamente dovrebbero essere diverse fra loro ossia per quanto riguarda ad esempio il 500 il 600 a partire dall'epoca delle grandi scoperte geografiche qua avete una fonte iconografica portoghese relativa a una campagna navale nell'oceano indiano e nel mar rosso del 1538 sono raffigurate sia due navi cioè quel tipo di bastimento che i portoghesi chiamavano navi e che noi oggi molto spesso chiamiamo in maniera impropria caracca utilizzando il termine inglese carac e l'italianizzazione di questo termine inglese nelle fonti italiane solitamente sono definite navi cioè nave senza l'utilizzo del termine caracca e quindi due navi e quello alla vostra destra è un galeone qual è il principale elemento distintivo che ci permette di intuire che queste sono navi e queste sono un galeone che è quella destra un galeone non guardate il numero degli alberi le navi ne hanno tre il galeone e quattro ma poteva benissimo accadere il contrario è la conformazione della prua il galeone che deriva come si intuisce dal nome da un'ibridazione fa nave e galea aveva lo sperone questa struttura accuminata in avanti come le galee la nave genericamente no però ho detto genericamente non a caso perché fonti iconografiche genovesi di fine cinquecento qua avete un quadro a sinistra un dipinto che raffigura il porto di Genova nel 1597 a destra un particolare di un arazzo che è conservato a Genova palazzo del principe Doria sono gli arazzi della campagna della battaglia di Lepanto questo particolare tipo di nave che nelle fonti solitamente è definito nave però a volte è definito anche galeone presenta infatti delle caratteristiche che non si capisce bene rispetto a quello che vi ho detto prima se una nave è un galeone perché perché ha la prua con uno sperone però con uno sperone più corto e leggermente slanciato verso l'alto c'è una forma che sarebbe quella del galeone però in una tipologia di bastimento che viene solitamente più spesso definita nave solo a volte galeone e siamo alla fine del cinquecento all'inizio del seicento ecco un dipinto che rappresenta questa tipologia di nave genovese in costruzione nei cantieri in cantiere su spiagge liguri la situazione particolare veniva costruita in parte fino a un certo punto sulla spiaggia poi veniva varata la vedete qua in acqua e la costruzione veniva completata poi in acqua se notate la conformazione della prua è una prua con uno sperone accorciato e leggermente ricurvo sarebbe quindi un galeone ma nelle fonti molto spesso e anche nel titolo stesso del dipinto che si chiama nave in costruzione su una spiaggia ligure viene definita nave anche qua quindi la distinzione è problematica perché perché l'armo a nave accomuna i due tipi di bastimenti e quello che dovrebbe essere l'elemento caratterizzante principale del galeone cioè lo sperone lo ritroviamo anche in bastimenti che nelle fonti vengono definiti navi andiamo avanti abbiamo solo più otto slide qua si vede di nuovo il problema da una parte stiamo andando un po' più avanti nel tempo siamo nel cuore del 600 1620 a sinistra 1650 a destra la vostra destra cioè il dipinto è del 1620 circa il il disegno è del 1650 a sinistra quello che viene definito un galeone spagnolo ma potrebbe anche essere definito nave utilizzando i parametri genovesi tra virgolette che abbiamo visto prima e a destra quello che è già una tipologia che sarebbe che rappresenterebbe l'evoluzione nella guerra navale del galeone ossia il vascello il vascello non più utilizzato come termine generico per tutti i tipi di bastimenti ma vascello utilizzato per identificare le grandi navi da guerra con più ordini di cannoni sulle murate vedete qua i portelli il problema dove sta è che nelle fonti ad esempio quelle genovesi ma anche quelle veneziane nel 600 quello che dovrebbe essere secondo un approccio standardizzato un vascello viene spesso definito ancora galeone nelle fonti o nave ossia per il XVII secolo voi trovate lo stesso tipo di bastimento grande tendenzialmente standardizzato nelle sue forme in questo caso ma non standardizzato nell'identificazione nei documenti scritti per cui questa era ad esempio l'ammiraglia di una squadra navale genovese che si chiamava Santa Maria la Santa Maria viene definita a volte galeone a volte vascello a volte nave da guerra almeno c'è la definizione nave da guerra per distinguerla dall'ambiente mercantile scendendo ancora più nel difficile poi mi odierete ma si arriva alla tipologia della fregata la fregata qua definita galeone perché inizialmente era definita così è una tipologia nautica nata alla fine del Cinquecento in ambito fiammingo nel contesto delle guerre fra Olanda e Spagna nelle Fiandre è una forma di nave cioè un bastimento armato a nave più piccolo che serviva come bastimento da caccia da ricognizione di servizio alle navi più grosse ai vascelli più grossi ai galeoni più grossi infatti si chiama fregata a galeone che vuol dire fregata a galeone vuol dire una fregata più piccola di un galeone sostanzialmente perché viene utilizzato il termine fregata perché ed è qua la complicazione che poi si ritrovano nelle fonti esisteva un'altra di tipologia di bastimento che si chiamava veniva identificata col nome fregata quella che prima all'inizio della lezione vi ho detto fregata mediterranea che era una cosa completamente diversa è questa piccola barchetta che vedete qua rappresentata in mezzo a due galee in questo particolare di un altro razzo della campagna di Lepanto qual era l'elemento che accomuna la fregata mediterranea la fregata galeone che poi diventerà solo fregata nelle fonti non ci sarà mai scritto fregata galeone e per questa tipologia che stiamo vedendo ora non ci sarà mai scritto fregata mediterranea la cosa che accomunava le due tipologie qual era era semplicemente il fatto che la fregata mediterranea quella che state vedendo adesso era il bastimento di servizio e di ricognizione per le squadre di galea la fregata galeone aveva la stessa funzione generica per quanto riguarda il galeone quindi il rapporto galea fregata era uguale a quella galeone fregata galeone il problema nelle fonti dove sta che nel 600 voi trovate il termine fregata per indicare questo piccolo bastimento mediterraneo tende a scomparire alla fine del 600 però per il 600 voi trovate nei documenti il termine generico fregata e solo analizzando il documento e campendo la funzione che ha il tipo di bastimento potete capire se è una fregata armata nave cioè una fregata grossa da guerra ma venivano usate anche nell'ambito mercantile oppure se è una fregata mediterranea cioè se è questo tipo piccolo questa piccola tipologia di bastimento ad esempio se voi trovate nelle fonti citate i corallatori genovesi che fa che i liguri genovesi nelle fonti sono definiti genovesi che pescano il corallo sui banchi della Corsica meridionale della Sardegna settentrionale nel 600 e alla fine del 500 e trovate il termine fregato utilizzate in questo contesto potete stare sicuri che si tratta di questa piccola bastimento perché veniva utilizzato come bastimento mercantile per le rotte a breve termine a breve raggio di cabottaggio e per la pesca e per la pesca del corallo in altri contesti in questo contesto sicuramente non troverete mai la fregata galeone in altri contesti però rimane il dubbio se il termine venga riferito a fregata galeone o fregata mediterranea e le due a galeone e mediterranea ce lo metto io perché per spiegare la differenza tra le due tipologie e le fonti purtroppo non lo fanno se non molto molto di rado parlando di coralline siamo finiti in un altro campo ossia in uno di quei campi in cui come accade oggi la funzione identifica il bastimento cioè in molti documenti voi trovate il termine coralline il problema dove sta che sotto il nome di coralline potete ritrovare una varietà abbastanza ampia di bastimenti diversi come il brigantino mediterraneo lo avete qua sulla destra lo sto cerchiando adesso la feluca in questo caso una feluca due alberi ma poteva anche averne uno e davanti al brigantino oppure ancora le fregate di cui vi ho parlato precedentemente e ancora il leudo che era utilizzato anch'esso come bastimento dai corrallatori quindi era tra virgolette una corrallina e nei documenti a volte lo trovate citato come corrallina ma a volte lo trovate citato come leudo parlando di brigantini però si pone lo stesso problema delle fregate perché perché se voi avete il brigantino che noi chiamiamo mediterraneo ma che i contemporanei non chiamavano mediterraneo cioè quello che sto cerchiando adesso era qualcosa di completamente diverso dal brigantino che si diffonde nel corso del seicento nel mediterraneo e che è questo tipo di veliero a due alberi che vi sto mostrando adesso il problema dove sta qua che nelle fonti del settecento voi trovate il termine generico brigantino e solo contestualizzando l'utilizzo del termine potete capire se il riferimento è un brigantino mediterraneo cioè una specie di piccola galea oppure a questo tipo di bastimento di origine nordica ma che si diffonde nel mediterraneo diventa tipico del mediterraneo nel corso del seicento e diventerà il brigantino tipico dell'ottocento cioè per l'ottocento tutti i brigantini per fortuna erano così al massimo esistevano i brigantini a palo che avevano un albero in più a poppa ma senza le vele quadre quindi diverse dalle navi e spariscono i brigantini mediterranei ma per il settecento e per il settecento le due tipologie coesistono hanno lo stesso nome ma sono completamente diverse ma anche per dimensioni per alberatura per forma dello scafo per l'utilizzo dei remi andiamo rapidamente a concludere un'altra tipologia che si ritrova spesso nelle fonti a partire dal settecento e principalmente in ambito militare è quella della corvetta e la tipologia la forma più diffusa della corvetta è quella che trovate rappresentata qui a sinistra ossia è un bastimento armato a nave che tendenzialmente è ancora più piccolo della fregata ma a vista è difficile capire se si tratti di una fregata o di una corvetta qual problema dove sta la complicazione sta nelle fonti veneziane perché perché inizio del settecento nelle fonti veneziane quando ho fatto ricerca all'archivio di venezia io trovavo il termine crovetta o corvetta e mi immaginavo sicuramente sarà un bastimento a tre alberi fatto così poi ho trovato pubblicato online tra l'altro un ex voto di un santuario delle bocche di cataro con rappresentata una corvetta veneziana del 1716 di ciccomandata durante la è una corvetta in servizio durante la guerra la seconda guerra di morea non ha tre alberi è armata come il brigantino precedente è in più ai remi vedete che la velatura è uguale a quella del brigantino che vi ho dimostrato prima che si diffonde fra tardo settecento e primo ottocento nel mediterraneo quindi è probabile che questa tipologia nautica già esistesse prima che si diffonda come brigantino nel mediterraneo il problema è che non lo chiamavano brigantino quantomeno non lo chiamavano brigantino i veneziani lo chiamavano corvetta ma è qualcosa di molto diverso di abbastanza diverso almeno a un albero in meno e in questo caso anche i remi in acqua rispetto alla corvetta del quella standard in questo caso è un bastimento che si afferma in un'epoca in cui i bastimenti da guerra nel settecento soprattutto una seconda metà iniziano a essere standardizzati e quindi l'approccio è sempre stato quello di pensarlo come un bastimento chiaramente individuabile cioè un bastimento armato a nave più piccolo di una fregata ultima problematica ibrida per fortuna in questo caso abbastanza definita è quella che potete trovare molto 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 spesso almeno noi la troviamo molto spesso nelle fonti relative al settecento con qualche accenno già nel seicento è una tipologia nautica particolare molto diffusa nelle marinerie delle principali potenze marittime cioè quella britannica nel settecento quella olandese quella francese ma presente anche in altre realtà ad esempio quella barbaresca la vedete citata in questo documento nave galera io la prima volta stavo ancora facendo testi di laurea che ho trovato nave galera ho detto ma la nave è una nave la galera è una galera di cosa sta parlando questo documento piano piano siamo riusciti a capire anche attraverso le fonti iconografiche di cosa stava parlando questo console di Livorno nel 1736 è questa tipologia nautica cioè un veliero armato a nave quello che nel settecento viene definito un grande vascello da guerra però ha anche i remi oltre alle vele non so se potete apprezzarlo ma in questo caso ha i portelli per i remi inframmezzati a quelli per i cannoni non so se qualcuno si ricorda il primo film dei pirati dei caraibi con Johnny Depp a un certo punto la nave pirata che sarebbe una fregata la perla nera insegue un bastimento britannico su cui è imbarcato Orlando Bloom mi sembra è la protagonista femminile di cui adesso mi sfugge il nome a un certo punto la perla nera tira fuori i remi e inizia a vogare era già spinta dal vento ma per aumentare la velocità inizia a utilizzare i remi ai tempi quando è uscito il film molti pensavano che fosse una finzione filmica era stata anche criticata questa scena in realtà è una tipologia nautica esistente che funzionava proprio in quel modo utilizzava i remi quando non c'era il vento o insieme alle vele quando il vento doveva guadagnare più velocità rispetto a quella che le forniva al vento ed è estremamente diffusa nel Mediterraneo ma era anche molto diffusa nella periateria caraibica alcune delle principali navi di pirati celebri come Bertolomew Roberts o William Kidd erano delle navi galere o se più piccole delle fregate galere questa del 1709 era figurata in un dipinto conservato dal Museo Navale di Malta e la capitana di Tripoli cioè l'ammiraglia della flotta corsara di Tripoli rappresentata mentre viene calturata da una squadra di galere con un vascello maltese sono riconoscibili quelle maltesi dalla bandiera ed è una nave galera ma ce ne sono tantissime nelle fonti ma anche molte che vengono rappresentate graficamente iconograficamente molto spesso si riconoscono le ho trovate nelle fonti veneziane le ho trovate nelle fonti austriache olandesi inglesi fino al 1812 fino al 1813 fino al 1814 cioè fino al ridosso dell'introduzione del vapore perché fino al ridosso dell'introduzione del vapore se mancava il vento bisognava remare se mancava il vento per muoversi per cercare di raggiungere uno spazio di mare dove c'era del vento e quindi ricominciare a navigare col vento bisognava tirare fuori remi e remare è una tipologia molto diffusa è una tipologia molto diffusa specialmente nel Mediterraneo e specialmente nel Settecento perché il Mediterraneo era caratterizzato da venti incostanti e da frequenti calme di vento quindi il valore del remo nel Mediterraneo era ancora maggiore che altrove molto spesso vengono rappresentate nelle fonti iconografiche senza i remi in acqua però si riconoscono perché fra i portelli per i cannoni ci sono dei portelli più piccoli e quelli erano i portelli per i remi la trovate rappresentata solitamente la trovate principalmente in due forme questa con i portelli inframmezzati i portelli per i remi inframmezzati a quelli per i cannoni oppure questa questa è una fregata austriaca parata per il patugliamento dell'Adriatico nel 1765 in questo caso la distinzione i remi e i cannoni non sono sovrapposti sullo stesso piano ma il ponte superiore è tutto dedicato all'artiglieria il ponte inferiore è tutto dedicato alla 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 rematura questa tipo questa forma particolare si ritrova anche in alcuni bastimenti inglesi che tendenzialmente ma non sempre nelle fonti sono riconoscibili perché perché se le fonti italiane chiamano questi bastimenti navi galera o fregata galera quelle inglesi utilizzano una formula diversa dopo il nome ci mettono galli tipo Charles Galley Adventure Galley Window Galley in quel caso lì possiamo avere una ragionevole certezza che la fonte ci parla di questa tipologia nautica o in questa versione con i